apri la porta quale quella lì di qua si esce no allora no torniamo di là e allora si è un coglio infatti ti dico sempre ponderà bene le scelte perché alcune non si rifanno è capito ma come fai a sapere ma tu l'hai giocato allora scoprono gli altarini forse il suo piano era proprio questo è un dolce alla bambola ha funzionato ma se la prendete a babbo finalmente e che cazzo io intanto finora mike ci ha ottenuto un dito è quasi scarico tu sentito forso vedrai chi ha messo il salvo ragazzo non so cosa dici sono le fogne ragazzi uro professore siete qui dentro come me ma che mori come una merda dopo schiacciato ma vedremo dove sono gli altri si saranno persi come noi voglio salvare stavano cercando forse ad angela non verrà mai in mente di cercarmi questo è sicuro è vero a tutto carattere ma non è cattiva ne sei proprio sicuro sì la conosco da tempo da molto più di voi e ha avuto una vita difficile ma è una brava persona ma qui si scoprono certe cose retro gli antefatti non è che fa un buon brodo che facevi con la vecchia Tom io non mi avvicino comunque è l'unico edificio che c'è in zona cerco un'entrata ma come l'hai cercata per entrare nel negozio fai lo scassinatore come hobby no sagace ma in una vita precedente sì da qui non si passa oddio sta a vedere come si salta ora dalla sedia ehi Taylor guarda qui vedere cosa ma pare abbandonato da parecchio oh già e mi davi 10 dollari eh no non ho accettato la scommessa d'accordo fallò fallò se vuoi litighiamo su chi deve entrare per primo ma sappiamo come finirà giusto di certo una scidella ma che cosa oh cazzo ehi vabbiamo in mano non si picchiano i manichini se dove stavamo la mano prima su vieni dentro esatto vabbè Tommy puoi aprire qui la porta che Andrino prima non ha aperto esatto fa un modo per ravvivere gli altri forza di qua eh vedi Andrino mi sa che se l'aprivi ci si ricongiungeva eh ho sti cazzi Tommy ma la sapete si oppure si moriva come una merda Tommy forse io ho visto qualcosa dove te ne vai è una pessima idea no 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 Che cazzo Tutti i monichini Ciao Michael, morto Che cazzo Non c'è No, non eravamo nella landa Esatto Dove sei? Vediamo Tommy come se la cava A salvare mani Lo vedo un po' confuso e disorientato Sì davvero Sei tu Taylor Prendi la bambola E' quello che Andrino non è riuscito a fare Prendi quello che non sono riuscito a prendere Questo è quello di prima Tommy No, è cambiato, non c'era la Sacra Bibbia Davvero, c'erano le streghe Prendi la Bibbia Aspetta Siamo noi Siamo noi Cosa succede? Ma putt' giuro Dagli un calcio per Dio Esatto Tre ore a smaletta a quella maniglia Andiamo Ma po' che erano i mocassini Ma che bambacca No, un po' di forza Oh Ho tornato Ma poi scusa Sentivo parlare E lui spingeva Avevo di fronte mi stessa E lei mi guardava Era vestita e parlava in modo strano Io non capisco Ti sei allontanata Ma se ti allontani da sola Rischi di finire In pericolo Daniel Io contavo su di te Così assurdo Ma fa ancora Tommy Io contavo su di te Ma io Ma io ero dall'altra parte Perché ti allontani da sola Sempre colpa tua Andiamo via subito Concordo Prendi la bambola Oh 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 Attenzione C'è un coltello Mi sembra Mi sembra Un repertorio archeologico Lo portiamo con noi Sì Tieni Prendilo Grazie Perché Per difendersi Caga sotto Ok Se ti fa sentire sicura Ma dai Si caga sotto Se la prende lei Lo tiene e lo usa L'avevo preso io Andiamo Mike Andiamo a far colpellarci Dritto Vai Poi a sinistra Bambola Via Oh Sto giocando io Ma ti affetta Tommy Porca Cosa Cosa Ora Ora li vedrò Solo Il video Per sentire Questo soffoco Non c'è più una bambola Abbiamo perso Siamo fottile Ma come una mucca È il barzo Che è tutta la durata del gioco Che sta sbierci Sì Ci andò a piada bene Poi mette in pausa Ah a parte va bene Sono morto Quindi è uguale No Inquietante Allora Ci sei giocato Tobi E ti sto indicando Che se non ci sei Ti sto indicando Con il disco Deve essere la stessa Che aveva la bambina Tu dici Sembra strano Strano Questo posto è una vera galleria degli orrori Non voglio restare Un minuto più del dovuto No neanche io Pupu Questa non è cambiata È sempre la solita No è che Sto guardando un giro Perché alla fine Il mio personaggio Certe cose Non le ha Non le sa A differenza dei vostri Oddio Che vuol dire Che più È più ignorante Quello che hanno letto Magari Che hanno scoperto Durante il gioco Però i personaggi Davide Barso Andreino Il mio non le sa Perché erano separati Ok Direi Che si vuole andare No Vieni Qui si esce Attenzione di che è il turno Il turno di Abbiamo già finito Quella cosa O come definirla Persiste nel tormentare Angela Senza sosta Voglio augurarmi che stia bene Un altro strumento di morte Nella collezione del gruppo Molto bene Ma voglio rendermi utile Offrendo un piccolo Non ne vogliamo il tuo aiuto Maledetta No Sì sì Io lo so No io no Sì sì Allora Maggioranza Maggioranza E' Tomi che decidi Vediamo un po' E' Baffo non ha letto niente C'è solo uno di noi Eh sì Daimoni Ma non mi sentite Sì Io ho fatto capire Ma spesso Nascono dal rimpianto Ma fa cambio cuffe Concludo adesso con le sagge parole di Un grande drammaturgo irlandese Che un tempo conobi Credo a Parigi Ma certo Mai giudicare qualcuno Troppo presto Ogni santo ha un passato Ogni peccatore Ha un futuro Ma soltanto una bambina A risentirci presto Ho capito Vai Mike Bongo cat Vai Abbiamo avuto fortuna La fiata Il prof e gli altri Sanno vicini Me lo auguro Stanotte ci è andato tutto storto Sto cazzo Torna indietro Molto meglio Davide A cambiatore cuffe Molto meglio Sì 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 Maronna Da Dalle stelle Dalle stelle alle stelle Prima eri tutto così Capito Ti senti un cazzo Ma come Come sgambetta 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 Sinistra Sinistra La donna che mi somiglia Ma senti anche ora Sì sì ora ti sento Sì sì ora ti sento Sì sì ora ti sento Vai lì vai lì Sul tavolo Famolo strano Ora sei No Adesso vi sollazzo Attenzione Con la mia voce Che sei grotto Ah che bello l'occhio di Tommy Bello l'occhio Cazzo Ripetami Ci ho abbassato Questi sono quelle da gaming A me piace Senti controllo Ha un senso Mike? Ora ha un senso Lì 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 c'è qualcosa Lo fa mostrano anche qui E qui un po' meno C'è Ma c'è sempre un palo Davanti a qualcosa Ma davvero dobbiamo leggere Tutti i nomi Quindi Che cosa serve Saper tutte queste stronzate Esatto Ma è sinistra Ancora ancora a sinistra Direzione Più a sinistra Girate a sinistra Non c'è più nulla lì Allora andare a destra Versa la casa A sinistra Versa la luce Sono sicuro che c'è qualcosa C'è la luce Noi torni indietro Guarda Oddio Oddio Oh porca Puttavia C'è un cartandosso Esamina Esamina Non ti vuole nulla Eccolo Esamina Esamina Tilly Johnson Questa casa Era La casa Anche per questa scrittrice È finita male A quanto pare Possiamo andarci Però i ragazzi Vedo un cazzo Nemmeno io Tornandietro Allora Un palo Il Tommy Ancora Tommy Vai Non c'è Non c'è Non c'è andà più sotto la luce Non puoi andare più veloce così No Chissà se potrò mai fare pace con Angela Non dopo quello che è successo stanotte Ti senti i piedi freddi Matt Mike Sì No diventano freddi Fai cosa c'è là Che c'è scritto Ah Interessante Esatto Punto Di vedetta Vai dentro la casa Vai dentro la casa Guardiamo un po' di I paesaggi Vai lì Ma lei è stato scarto o sbaglio? C'è le ballerine No C'è la ballerina No C'è la ballerina Frattomi Frattomi che c'è a Mocassini Dove Ho il sospetto che siamo i primi turisti Provi ad entrare Penso che non si possa entrare No Non si può entrare Si può entrare I sviluppatori non hanno abbastanza budget per fare anche questo Che parte ti porto di qua? Eh portami di là Oh ragazzi è totalmente scalza Ma che scalza? Ciao Le crocce Da dove diavolo arriva? Sembra le converse Scarver Non mia idea Ah sì Una bella lancia nell'occhio Ah nel sito dell'esecuzione Ah è il sito dell'esecuzione Come il funo ha fatto un barbecue Buffetto Bona Lungo giù Luganetti Chi ha portato la carne? In gas gas Cosa c'è là? Qui c'è la faccia una carotta ripariamola cosa c'è qua certo io lì sono un poco inquietante in fondo ma qui si stai muovendo tu o il video a se comandando tu si ha sembra fosse partito un video ora il video vieni qui o l'hai visto cosa c'è no c'ho visto non era lui ricordo questi segni è la mia vecchia altalena guarda qui vedi ma che sto dicendo bene calma no che non va bene non capisci vedi queste stelle queste qui le ho disegnate io insieme a mio padre e l'ho fatto quando avevo dieci anni sei sicura certo che sono sicura questa è la mia altalena come può trovarsi qui d'accordo ti credo e che significa per tempo paracolando perculando è un messaggio per me ora pari mario di filippi guarda me guarda me noi non ci guardo tommy insieme oddio non è una storia che ci afferrano stani poverti stile ancora c'è la parte in inglese solo il signore può perdonare i peccati è la tua unica speranza di salvezza non so che se mi si è un po' dimenticato ma è per quello che è stato giustiziano perché lei parla in inglese e loro parlano solo in italiano non mi lascerò irritire c'è il demonio in te debbo salvare la città dalla tua corruzione non esiste altro modo devi morire ma questo è chi è? tipo la scrittrice? no questo sono io la prossima che guarirà mai con c'è te allora esatto io sono no ci sono io eccoci morto cazzo grandi quindi quello sarebbe stato Mike ci ha fatto i miei capi la donna condannata ero io vuol dire che sono la prossima non ti accadrà nulla ti proteggo io grazie ma come fa a sapere la prossima se quell'altro gruppo non ci si è vista Tom è il tuo turno scaldami tutta proseguiamo verso lì lì troveremo gli altri sì credo sia meglio ti protegge Tommy ah ti ricordo che Tommy dovrebbe essere quasi infilzato con un'arancia e grazie a questo dettaglio io vedrò di non farlo tanto quello accade comunque il gatto ecco la lancia tu cosa c'hai in faccia? c'ha la muffa? arriva arriva vedi di andartene via stai alla larga da noi ok? ma sei te? ma che cavolo è quello? ma sei te Mike? sì è vero è Michael quello che fai? coraggio scappiamo scappiamo che pusillanime sono nascosto no Tommy no come era? bella a fare lì ah no non c'è più il tasto di abbandonare scappiamo hai vede scappa comunque allora non so che fatti faccio finita a me aiuto a fare la scaletta al tommy scusa come ha fatto a andare di là senza saltare fate concentrare al tommy adesso ci stiamo passando passaggi di testimoni salta 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 no no c'è la le scarpe però questa parte che è fatta bene dai così mezz'ora all'entimento no mi hai sbagliato ommy occhio eh ma non mi hai detto ma presi pazzo c'è da dietro facciamo devi un sbagliato ma c'è il joystick ma così veloce da roba mi non fermarti vai mezzi è perdito lento perché per tempo a nascondersi ciò non mi piaceva come me dio moro il rara la sua chiesa porto a miseria al bar per muoto non mi sono venuti a fare ora sei convinto parola come porto la merda la lancia attenzione visto la ringhiera ho un po' d'azione madonna Ehi, scappa! Entra, sbrigati! Ehi, si è quasi raggiunto! Ti è fuori addosso! Spara, spara, vai! Ma che cazzo fai? Sei impazzita! Puoi forse farti ammazzare? Venite dentro! Ehi! Dov'è Angela? Siamo nella chiesa? Quello di colore? No, e dobbiamo tenere fuori quella cosa o faremo la stessa fine Cercate gli altri ingressi e bloccate lì Tutti sforzi inutili Merda! Dobbiamo barricare la porta! Una mano! Ma questo è... Ehi! Ehi, ehi, ehi! E lui! E lui, vai! Perché quel vecchio pazzo è ancora là fuori? Ehi! Che ne so io, è fuori di testa! No! Come no? Fatele voi le scelte! Ma ste... Vabbè! Che gli prende? Finirà per attirare qui quella creatura? Sì, che giochi! Vabbè! Non è grave! Vieni fuori e guardami in faccia! Non provare a mettere il naso fuori! Dico a te, stronzo! Perché diavolo mi hai sparato? Non ti nascondere! Liberiamoci di lui! Perché se il mostro lo sente siamo nei guai! Beh, effettivamente! Volevo essere d'aiuto! Ehi, calma! Io volevo solo aiutarti! Non hai visto quel mostro? Ma di che cosa parli? Qui non c'è nessun mostro! Quella cosa ha ucciso una nostra amica! Ok! Dimmi cosa è successo! Qualcosa ci ha seguito? Ho preso la mia amica! So che può sembrare assurdo, ma... Vabbè, vabbè! Eh, però... ...di amici, eh! ...di amici, hai seguito! Te lo posso giurare! Rimani qui! E non combinare guai con la pistola! Comunque lui ce l'aveva dietro, eh! Quella cosa è fuori! Si prende gioco di noi! Perché... Eh, che ne so io! Non dire nulla! Perché? Professore! Andrew! Sono io! Il prossimo! Che ne so! Ma qual è foro a saperlo? Il prete, reverendo, quel che era, ha mosso accuse al mio sosia. Sembrava serio. Un altro processo. Questa volta no. Ma la situazione era simile. E la bambina? Mary? Sì. Anche lei era lì. Qui siamo al sicuro. C'erano degli altri ingressi. Bene. Scusa, prof. Non ho guardato. Sempre il solido. Quel coso è ancora là fuori. Guardate, laggiù! Chi è, bimbetta? È meglio se grilla. Chiunque a noi sia è coinvolta in quello che ci sta succedendo. E se hai ragione, che facciamo? Fermarla potrebbe essere l'unico modo per salvare la vita ai nostri sosia. Sta di guardia in caso tornasse quell'essere. Ehi, piccola! Sì, lui sul tetto, sì. Sì, qui? Che poi, se avete notato, la recinzione della chiesa era tutta quella di faccionata di ferie. Sì, 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 sì. Porca! Ma è qua là, sento me nel passato, va? Mi addolora dire queste parole, ma il tuo castigo sarà la nostra salvezza e terrà al sicuro la città. Potete graziarlo, ve ne prego! So che per te è difficile, ma un giorno comprenderai e me ne sarai grata. Allontanati da qui, Mary. Le suppliche non servono. Non devi avere memoria della mia fine. Che sarà di me quando te ne andrai? Il giudice Wyman ha nominato Abram. Sarà il tuo tutore. Una decisione che non vede tutti i concordi. Chi è Abram? Il giorno del giudizio giunge per tutti. Oddio! Oggi tocca a te. Guarda piccola, osserva chi volevi salvare. Lui non è più una creatura terrena. Soltanto i demoni e i dannati resistono a tal modo. Porca miseria. Quello è il coltello che ho fatto. Ah, è come se è finito a lui. È vero. Anche lui ci è rimasto impiccato nella sciarpa. Oh, non puoi dare un pugno a rangerli. Ah, sì, è vero. Anche tu hai rimasto qui. E' imparso come era morto. Sfocato. Sfocato. Sfocato, sì. Un bagno, sì. Ah, quindi rientra nel fatto che eri nella merda. E' Davide come era morto? E' il mio turno! Era nella vasca da bagno. Davide era schiacciato. Sì. Ah, sì, Mike. E' il mio turno! Gas! Ha schiacciato da che? Ma era proprio una trave di legno. Lo tenevo stretto. Quindi però se tu, buffo. Oddio. Ero con lui, ma non ce l'ho fatta. Proprio se non salvi il tuo sosio muori. Ti do il benvenuto nel club! Beh, il club di chi ha visto morire il proprio sosio dà il benvenuto a un nuovo membro. Diciamo ciao a Daniel, ragazzi. Ah, puttana. Ti pare il caso? Ciao, Daniel. Non c'è niente da dire Taylor. Iscrizionerevo, cara. Ma lo sapevo, guarda. Non sei degno del club dei sosio ammazzati. Ecco che succede. Angela è morta dopo l'esecuzione della sua sosia. Taylor è scampata soltanto per me. E' il personaggio di Mike che mi gara troppo. E' il tuo doppio muore, poi tocca a te. Eh, davvero intuaggianti. Molte grazie. Non è meglio sapere quello che ti aspetta. Eccone lì! È quello che ci segue! Andiamo! Mike ti vuole. Brama il tuo collino, capisci? Alla fine ci seguono quelli che sono morti. Sì. Quindi ora arriverà anche quello di Tommy a seguirci. Eh no, quello di Tommy è incazzamento... ...con quel mostro là fuori. Piano. Abbiamo un po' di braccio. Ha ragione. Beh, forse restare qui non è una cattiva idea. Secondo te è la scelta migliore... Bravo, Mike. Dobbiamo restare qui. Non c'è scelta. Dovremmo fuggire finché si può. Quel coso ci ha intrappolato. Paura, Tommy, eh, di cascare al campanile. La maggioranza ha deciso che è meglio restare qui. Non possiamo dividerci dopo l'episodio di Angela. D'accordo, come volete. Ma a me non sembra giusto. Sinistra. Disegno, disegno. Questo posto è pieno di sosia. Questo prete è l'immagine sputata di quel predicatore. È vero. Sembrano la... Dritto, dritto. Che c'è una porta, eh? Ma io voglio esplorare lì. Destra. Che c'è lì? Attenzione. La cassa, la cassa. Ah, no. Attenzione. Un fax. Cosa c'è poi? Esplora, esplora! Uh, che c'è scritto lì? Che Dio ci ha perdonato. No, che ci ha... No. Che ci ha purgato. Ah, ci ha abbandonato. Che poi non è totalmente corretto. Che ci ha dimenticato, però vabbè. Dettagli. Dettagli. Oh, sembrano più di uno. Fantastico! Gonfia. Gonfia. Lazarus Burgers. Bazzi, a me ti piace la con la mucca. Boh, quando ce l'ho capito, ma sta gente è quella che è morta. C'ho capito. Esplora, esplora! C'è una cartolina lì per terra. Prendila, prendila! Azione. E che fai collezione di cartoline? Ma che cos'è? Bollettino parrocchiale. Oh, che palle. Ma Satana non dorme mai. Il pericolo è che cadono vittima di vizi come il fumo della marijuana. Ok. Boh. Vabbè, lascialo lì, eh. Ti piace anche un calcino, così, non trovi. Eh, sì. Cazzate! Andrino, ma che... Guarda, guarda il piano, il piano. Prego. Lo senti, lo senti che si stringe attorno al collo, Mike. Eh, sì. Giù. Ma che cazzo! Andiamo, non me lo vado. È Franco 30, ma. Eccole, Tommy. E questo non è. Correte! Questa, questa è la... Nascondiamoci, presto! Lei è cosa? Eh, guarda, come ci siamo di tutti, eh. Quello sei te. Tommy, occhio le lance. Ecco, alla, mo me la piglio io. Affronta? Ma sa Tommy! Sa Tommy. Eh, sa... Sa Tommy. Che ha fatto scappa. Ha fatto scappa come un... Come un pusillanime. Come fanno? Tu sei concentrato. Eh, concentrate. Ma c'è. Che fa... Si, non c'è. Se s'è... Si, non c'è. Si. Ma c'è... Ma che fa stà Nutrition? Che fa? a testo c'è la cittadina non è che ci faceva tommy caccia a corso mezz'ora a corso mezz'ora per tutto sono rimasti tutti lì è bello e sono già stanchi ma poi voglio dire che è un bel ascolato hanno smesso di correre qualcosa sono salvi si bravo dobbiamo aiutarla ora aspetta un attimo dobbiamo calmarci cosa te lo rende i guai vai mike ecco che muore abbandonato a se stessa quindi quello con tutte le lanci e tommy siete abbiamo capito aia mike vai a sinistra grande grande io sono qui ma secondo me la gara è uguale se non dovessi essere uguale no 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 attenzione alla internazioni m m 6x6 madonna che culo non è finita cazzo ma chi era quell'ombre lì? ma chi era quell'ombre? era Tommy e quel buff cazzo però non mi hanno visto non era magari quello impiccato che... contenuto bonus bloccato, grandi cazzo cazzo Tommy sei un mostro non ci speravo più ma Bart è morto solo voi ma sono morto ma anche secondo me no Andreino è un topo di biblioteca Andreino è un topo di biblioteca è un consulente io sono guida spirituale topo di biblioteca Andreino specialista del cuore ma... e allora vedrai l'atto 3 al finale basta è il tuo turno e andiamo avanti cazzo